...invitali a rimanere da sua parte. ...invitali a rimanere. Pensando che addirittura da più estetica, l'accendamento è rinostrata, che un'idea di questi due apporti musicali vuol dire a mettere in comunicazione due armi di serie generali, quasi compatibili tra loro. L'armi di nuovo sinistro, quello gioco dell'indico, con quello destro, il mio amore gioco e credito. Questa operazione, una volta, è causata in piccole distrazie del coraggio musicista e proviene l'esecuzione tra la mano destra e quella sedista. Ognuna è intanto un comandante da un suo emisferno e quindi scelterà di avere sopra il pezzo sull'aria. Insomma, vediamo cosa succede. A presto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.